Mi vuoi ascoltare? Voglio essere ascoltato? Perché non mi ascolti? Porca miseria, molti parlano, parlano, pochi lasciano parlare e quasi nessuno ascolta. Eppure quando ci accade di essere ascoltati per davvero, viviamo un'esperienza che può segnarci in profondità e innescare cambiamenti reali e duraturi nella nostra vita. Quanto è importante ascoltare? Io credo che il miglior modo per parlare sia ascoltare. Parlare significa dire ciò che già sai, parlare significa trasmettere concetti che già conosci, trasmettere emozioni che stai già vivendo. Ascoltare, invece, significa arricchire l'anima, arricchire se stessi. In questo libro Parlami, piccolo libro dell'ascolto di Matteo Rampin, quello che io chiamo capitano, è uno psichiatra, psicoterapeuta che insegna tecniche di negoziazione per vari reparti delle forze dell'ordine e del quale ho avuto modo di conoscere la profonda etica con la quale svolge la sua attività. Insegna in questo libro a trasmettere un concetto semplice ma incredibile, e cioè come si può ascoltare leggendo un libro. È impressionante quanto il capitano è stato in grado di trasmettere concetti in questo piccolo libro, che si legge molto velocemente, su quanto sia indispensabile sviluppare la capacità di ascolto, mettersi in posizione di ascolto profondo, e lo ha fatto semplicemente usando una tecnica, quella di leggere un libro. In questo difficile momento che stiamo attraversando, stiamo imparando nuovi modi di comunicare con le persone. Dobbiamo metterci in contatto con queste persone. Il miglior modo per farlo? Ascoltarli. È utile questo libro per tutte quelle persone che hanno come me la necessità di parlare, trasmettere dati o concetti. E l'unico modo che abbiamo per parlare in maniera attiva, in maniera utile, è quella di ascoltare. Nel libro Parlami il capitano spiega proprio e pur questo il modo migliore per parlare è imparare ad ascoltare. Parlami, piccolo libro dell'ascolto, Matteo Rampin, Ponte alle Grazie edizioni.